Allora, adesso passiamo ad un altro tipo di carta, questa è la Cromolux, che mi è stata sempre inviata dalla stamperia Rimini, e anche questa è una carta colorata, formato 25-35, e colore, così come lo vedete, sfiora quasi il metallizzato, è un colore difficile da dire che colore è, è quasi un marrone rame, fra il marrone e il rame, Allora, cominciamo, vediamo cosa si può fare, Allora, cominciamo, vediamo, vediamo. Sinceramente devo dire che, che rende molto bene. Allora, questa ci facciamo qualche pianeta, sempre cose semplici, senza complicarci troppo la vita, perché stiamo solamente provando la carta in questo momento, quindi lo scopo più che altro è quello. Quindi dai, ci facciamo una serie di pianeti, e poi troviamo uno più piccolino, da mettere. Così. Allora. 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 Sì. allora togliamo io questo 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 è 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 Grazie. 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 Bene ragazzi questa era la Chromolux e la Chromolux come lo sappiamo è una carta eccezionale. Quindi è una carta diciamo che per eccellenza si può raccomandare a tutti gli spray pender. Abbiamo fatto questo piccolissimo paesaggio spaziale, adesso lo facciamo vedere un po' meglio. Così si vede la città, fatta con la spatolina che su questo tipo di carta così lucida praticamente scivola alla perfezione. Scivola veramente bene, la struttura dei pianeti è anche buona. Vediamo se andiamo dentro la città. Ecco qua, si perde la messa a fuoco. Ecco qua. Vediamo. Così. Così. Dai ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo Paint. I'altro cliente. Anlezza che è finita grazie a tutti i grassi, e sonnichili, con il saperezza e quantizzariede. Così è finita al oddsane tra anche non entusi a blir blascinta la leina. È, portanto, gostavo, questo e non ci bisognite. Cl Chartiamo sono pieno dominante.